Se io sono qua è grazie a tutti voi. Quando ho iniziato il mio studio era la mia camera. Insieme ad Adidas, con il supporto di Cross Radio e Indie Pride, ho deciso di realizzare un nuovo studio a Cinisello e di metterlo a disposizione di tutti. Perché il cambiamento è un gioco di squadra.